La 164 e la 155 furono le vetture più interessanti prodotte tra il finire degli anni 80 e l'inizio dei 90. Nel 1997 arrivò sul mercato la 156 con l'innovativo motore diesel JTD di tipo Common Rail, recentemente sostituita dalla 159. Negli anni successivi la gamma si è allargata con la 166, la Sport Wagon, la 147, la Cross Wagon e con i modelli ristilizzati di Spyder e GTV. Per quanto riguarda le competizioni non si possono dimenticare frattanto i successi del 93 del campionato DTM di Larini. Nel 94 quello di Tarquini nel turismo britannico e dal 2000 al 2005 le quattro vittorie marche nell'europeo turismo con la 156 e i quattro allori piloti sempre nell'euro turismo con Giovanardi e Tarquini. Nel 90 e l'inizio dei 90. Nel 1997 arrivò sul mercato la 156 con l'innovativo motore diesel JTD di tipo Common Rail, recentemente sostituita dalla 159. Negli anni successivi la gamma si è allargata con la 166, la Sport Wagon, la 147, la Cross Wagon e con i modelli ristilizzati di Spyder e GTV. Per quanto riguarda le competizioni non si possono dimenticare frattanto i successi del 93 del campionato DTM di Larini, nel 94 quello di Tarquini nel turismo britannico e dal 2000 al 2005 le quattro vittorie marche nell'europeo turismo con la 156 e i quattro all'oro. La 164 e la 155 furono le vetture più interessanti prodotte tra il finire degli anni 80. Nel 1997 arrivò sul mercato la 156 con l'innovativo motore diesel JTD di tipo Common Rail, recentemente sostituita dalla 159. Negli anni successivi la gamma si è allargata con la 166, la Sport Wagon, la 147, la 147, la Cross Wagon. La 164 e la 155 furono le vetture più interessanti prodotte tra il finire degli anni 80 e l'inizio dei 90. Nel 1997 arrivò sul mercato la 100 e con i modelli ristilizzati di Spyder e GTV. Per quanto riguarda le competizioni non si possono dimenticare frattanto i successi del 93 del campionato DTM di Larini, nel 94 quello di Tarquini nel turismo britannico e dal 2000 al 2005 le quattro vittorie marche nell'europeo turismo con la 156 e i quattro allori piloti sempre nell'euro turismo con Giovanardi e Tarquini. 90 e l'inizio dei 90.